E' tanto beccata! Possiamo fare una foto? Certo, certo! Mi ricapita, la figlia di Giuliano Germano. Uno, due, tre... Penso che papà abbia, almeno a me, ma forse anche a te, abbia distrutto il rapporto con gli uomini. Quando lo trovi un uomo all'altezza... Questo è il figlio di Goethe. Quindi non si sa come si chiama questo signore, che cosa ha fatto, se era un artista, aveva un talento, non sappiamo niente di lui, solo che era il figlio di Goethe. Dei sogni e delle ambizioni. E delle femmine ce n'è una che ti sta proprio simpatica. Io non vado da nessuna parte! E non c'ho paura di te né di nessuno! Sono tanti sogni che non ho realizzato ancora. Ti fermi! Ma lo smette, mi mette in riparazzo! Basta con quest'idea che tutti mi vogliono truffare! Per favore, mi ascolti! A presto!